Viviamo il Comune, la città a portata di mano. Il Comune di Carpi ha aderito all'iniziativa Viviamo il Comune perché l'ha trovata subito interessante. Per quale motivo? Perché è finalmente qualcuno che si occupa di quello che i comuni fanno sia per i cittadini ma anche per chi viene da fuori. È giusto valorizzare il lavoro che costantemente i sindaci fanno sia per quanto riguarda i servizi ai cittadini ma soprattutto per quanto riguarda anche chi viene a visitarci da fuori. Il territorio di Carpi offre veramente tantissime opportunità per chi viene da fuori, tantissime attrazioni sia per quanto riguarda i turisti, le attrazioni gastronomiche, culturali. E questo tipo di trasmissione penso che avrà veramente successo perché mancava nel panorama televisivo nazionale. D'ora in poi vivere Carpi e visitare Carpi sarà sicuramente molto più facile perché grazie al progetto Viviamo il Comune è possibile per tutti quanti i cittadini che vivono sul territorio e i turisti che vengono fuori scaricare la nuova applicazione, tra l'altro gratuitamente, ci tengo a precisarlo, un'applicazione molto comoda perché dà la possibilità di vivere Carpi a 360 gradi sia per quanto riguarda le informazioni turistiche, gastronomiche, quindi è ancora più semplice venire e vivere a Carpi. Viviamo il Comune, un programma per conoscere e vivere meglio il tuo Comune. Prossimamente sulle migliori televisioni regionali italiane.